Le persone dovrebbero frequentare il corso di danza orientale con Simona Sia per scoprire che sono davvero, lasciarsi andare e provare nuove sensazioni. La mia maestra Simona fin da piccola si è rimboccata le maniche per raggiungere i suoi obiettivi con forza di volontà e carattere, scegliendo di seguire le proprie passioni in modo concreto o studiando con gli insegnanti migliori da tutto il mondo. Ha una vera e propria vocazione all'insegnamento e ciò che apprende lo trasmette a noi allievi con entusiasmo. Se dovessi descrivere la mia maestra con tragettivi direi artista, professionale e sensibile. Ho piena fiducia nella mia maestra, la reputa una guida nella danza e nella vita. Mi ha aiutato tante volte a superare gli ostacoli e mi ha reso più determinata. Se dovessi consigliare a una persona cara di frequentare il corso di danza orientale con Simona, le direi che è un percorso di crescita per migliorarsi dentro e fuori. La danza emergiva pura, la reputa l'essenza della femminilità. In questo percorso sono cambiata tanto. Ho cominciato a creare un poco più l'adolescente con le insicurezze. Grazie a questo corso sono cresciuta, ho imparato a conoscermi e ad apprezzarmi un po' di più. Ho imparato a vivere appieno le emozioni. Se potessi tornare indietro lo rifarei senza il minimo dubbio. È stata una delle scelte migliori che abbia preso per me stessa.